Stiamo vivendo bene perché vincere è sempre bello, crea autostima e siamo contenti. Però da una parte sappiamo che il campionato è lungo, la Serie B è un campionato strano, quindi bisogna stare calmi, non guardare la classifica assolutamente perché è ancora lunga, c'è ancora tanta strada da fare. È stato bravo Ale che mi ha visto in mezzo, è la messa di sinistro, poi l'ho incrociata col sinistro, quindi merito anche suo, tanto. Sì, sì, il Mist è stato bravo quest'anno, sin dall'inizio, a trasferirci il gruppo e non pensare al singolo. Poi è normale che a me piace sempre fare gole, però è una cosa che ora metto da parte, come magari mettono a parte tanti miei compagni. Pensiamo più al gruppo e insomma i risultati si vedono, quindi insomma andiamo avanti su questa strada. Non sembrava di averlo preso, lui forse ha un po' accentuato la caduta, però insomma va bene così. La dedica è a mio nonno che ha compiuto gli anni ieri, mio nonno Giuseppe. Grazie. 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 Grazie.